Una vittoria corroborante, non c'è che dire. Il Terramo che esce dal recupero col Pordenone con vista già sul Padova sembra aver quantomeno trovato quell'equilibrio che probabilmente è l'ingrediente che finora è mancato. Anche aver tenuto per la seconda volta consecutiva la porta inviolata è il primo mattoncino pesante che Ugolotti ha piazzato al centro del progetto di rilancio. Si vincono i campionati e si ci salva senza subire reti. In questo momento basta vincere 1-0, basta vincere, non bisogna vincere 4-0. Bisogna fare punti, la prima cosa da sistemare sicuramente è dare solidità a lavorare sul reparto difensivo perché quando siamo arrivati, adesso le statistiche le guarderemo, però eravamo la terza peggior difesa. Non prendere gol significa lavorare anche con i ragazzi con uno spirito diverso, ti ascoltano, seguono, non è che non l'hanno fatto prima, però è normale che c'è uno spirito diverso. Lo spirito sì, ma anche la possibilità di attingere a piene mani da una rosa ampia a cui va comunque chiesto sempre quel sacrificio intravisto con i Neroverdi. In alcuni reparti abbiamo un'abbondanza e abbiamo qualità perché se andiamo a vedere le presenze di questi ragazzi in determinati ruoli sono ragazzi che hanno sempre fatto 20-25 partite, non qua ma probabilmente in altre squadre. Abbiamo qualche problemino numerico in mezzo al campo dove abbiamo tanti ragazzi giovani che si devono far trovare pronti perché man mano che li conosceremo probabilmente ci sarà spazio. Abbiamo possibilità di giocare con le due punte, di conseguenza abbiamo gli esterni che non siamo in numero eccezionale, di conseguenza uno si rende conto anche per la programmazione di un allenamento, lo schema giusto per poter affrontare una squadra. Insomma, Ugo Lotti sembra aver almeno virato l'umore in casa biancorossa, clima tendente alla schiarita dopo le nubi che hanno attanagliato il diavolo. Ma nel Tour de Force che attenderà il Teramo c'è uno scontro tutto biancorosso domenica pomeriggio all'Euganeo, gara difficilissima ma che da mercoledì si può guardare già con un altro piglio. Io mi auguro che sì, noi vogliamo ripetere che adesso abbiamo un Tour de Force perché se dovessimo guardare le squadre che affrontiamo, vista la classifica, ci dovremmo impressionare. Siccome io non mi impressiono, noi non ci impressioniamo, lavoriamo sul campo, andiamo a preparare, adesso ci godiamo momentaneamente questa vittoria che ci aiuta a lavorare, aiuta i ragazzi perché se lo meritavano, perché torna a ripetere, è dal 4 mi sembra di dicembre che non sorridono. Aver fatto anche Natale senza sorridere non è bello, aver cambiato tre allenatori non è bello perché sono dei professionisti, di conseguenza si nota questo nei ragazzi. Io mi auguro che già da domani vengano con lo spirito che hanno sempre avuto, ma col sorriso perché torna a ripetere, in fin dei conti è sempre uno sport, è sempre una partita di calcio. Grazie. Grazie.